Buongiorno Riccardo, grazie di esserci venuto a trovare. Ben arrivato. Ben arrivato. I prodotti che rappresentiamo sono prodotti che si collocano nel risparmio energetico e quindi negli isolamenti, nella sicurezza. IsolCenter è una società di consulenza, di progettazione per quelle che sono le esigenze dei nostri clienti nella risoluzione delle loro problematiche costruttive. Io, della verità, ho iniziato a giocare a calcio, però non mi è piaciuto, non mi divertiva, non mi entusiasmava e grazie a mio papà, che è stato un ex giocatore a livelli dilettantistici, mi ha consigliato di provare e da lì è nata una passione che dura tuttora. La svolta della mia carriera è venuta al penultimo anno di giovaniglia Venezia, quando ho deciso di accettare la proposta di Agropoli, una squadra da due, mettermi in gioco e iniziare, insomma, un nuovo percorso tra il mondo dei grandi. Mi ha spinto ad accettare la proposta di Forlì, la forte ambizione della società e la passione che si respira in questa città di basket, passione che l'anno scorso purtroppo non ho provato a causa del Covid, ma che sto vivendo molto bene quest'anno. Let's go live! Let's go live!